L'Italia è il paese con il maggior numero di vittime da coronavirus nel mondo, 3405, 240 decessi in più rispetto alla Cina, mentre sono 427 le persone che hanno perso la vita nel nostro paese nelle ultime 24 ore. La Lombardia è la regione più colpita. Nella provincia di Bergamo l'assistenza sanitaria al collasso preoccupa la situazione a Milano con il boom di contagi. Il governo valuta il prolungamento delle misure di restrizione previste sino al 3 aprile, tra queste anche la chiusura delle scuole, una decisione definita e inevitabile dal premier Conte. Il governatore della Lombardia, Fontana, chiede ulteriori strette la chiusura di uffici e trasporto pubblico, compreso l'esercito in strada. Il ministro della Difesa, Guerini, ha dato la disponibilità all'utilizzo dell'esercito per aiutare le forze dell'ordine. Il piano da 750 miliardi di euro annunciato dalla Banca Centrale Europea per far fronte alle conseguenze dell'emergenza coronavirus ha subito dato i suoi frutti. Ieri giornata positiva su tutti i mercati europei, compresa Milano. Il premier Giuseppe Conte ha chiesto all'Unione Europea di usare tutta la potenza di fuoco del fondo di salvataggio da 500 miliardi di euro per affrontare la crisi economica del continente. Superati i 100 mila casi, ormai l'intera Europa combatte con la pandemia. La più colpita dopo l'Italia rimane la Spagna. La Germania si prepara allo scenario peggiore e la ministra della Difesa annuncia l'impiego dell'esercito a supporto dei civili. Negli Stati Uniti raddoppiati, contagiati in 24 ore. In Argentina ha decretato la quarantena nazionale da oggi fino al 31 marzo. Le 7.30, buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del telegiornale. Lo avete sentito già dai titoli, dal nostro sommario. Quella di ieri è stata purtroppo un'altra giornata drammatica per il nostro paese con l'Italia che ha superato la Cina. Pensate nel numero di vittime, 3.405 nel nostro paese, 3.245 in tutta la Cina. È elevato anche il numero dei contagi, oltre 41.000 i casi di positività. Ma facciamo il punto nel servizio, vediamo. Sale ancora la curva che segna l'evoluzione del coronavirus, facendo registrare il sorpasso dell'Italia. La Cina nel numero delle vittime da Covid-19, 3.405 nel nostro paese, 3.245 in tutta la Cina. Anche il numero dei contagi ha subito un'impennata, che ha portato i casi di positività ad oltre 41.000. Il dato confortante è quello dei guariti, 4.15, ieri 4.440 totali. Ma ieri è stata un'altra giornata drammatica in Lombardia, con il picco di contagi che stavolta spaventa Milano. Qui ora i nuovi positivi crescono più che a Bergamo. Sono preoccupato, dice il primario dell'ospedale Sacco, il professor Galli, dalle pagine di Repubblica. Se è vero che le norme di distanziamento sociale ci hanno favorito, dandoci la possibilità di contenere una ulteriore diffusione, è vero anche che io vedo troppa gente in giro. È per questo che si valutano misure più restrittive per contenere il virus e l'aumento delle forze dell'ordine. Per i controlli delle persone che aggirano le raccomandazioni è pronto ad intervenire anche l'esercito. Mentre per le strutture sanitarie che combattono ora dopo ora per reggere l'urto dei contagiati, il Premier Conte ha deciso la creazione di una task force di 300 medici reclutati su base volontaria e proveniente da ogni parte d'Italia da inviare nelle strutture con le maggiori criticità. E crescono anche le zone cosiddette rosse in tutta Italia. L'ultima è quella istituita nel Lazio. Si tratta del comune di Fondi dove si sono registrati 40 casi di positività tra i partecipanti, tutti anziani, ad una festa di carnevale. Da stanotte la cittadina, 39 mila abitanti, sede del mercato ortofrutticolo, è presidiata dalle forze dell'ordine. Obiettivo il rispetto dell'ordinanza che ha ridotto drasticamente la mobilità e le attività consentite. E allora nel prossimo servizio vediamo qual è la situazione al momento nella regione Lombardia che come sapete è la regione più colpita del nostro paese. Questo sabato arriverà un team, sono oltre 50 esperti provenienti da Cuba che hanno maturato un'esperienza già con l'epidemia di Ebola. Saranno medici sanitari, personale sanitario e professionisti. E poi nelle prossime ore, dopo che si è sbloccata con il via libera della regione, dovrebbe essere allestito il campo che verrà messo in piedi dall'Associazione Nazionale degli Alpini. Sarà un aiuto importante. Vediamo. È pronto e sarà già attivo dalla tarda mattinata di oggi a Cremona l'ospedale da campo allestito in tempi record dalla ONG Samaritan Ports della Chiesa Evangelica Statunitense. Le 15 tende montate nel parcheggio fuori dall'ospedale maggiore accoglieranno i nuovi arrivi di pazienti positivi al coronavirus. 60 posti letto, di cui 8 terapie intensive. Lo staff medico arrivato dagli USA è composto da 60 persone, tra medici e infermieri. Un supporto importantissimo per alleggerire due ospedali della città ormai al limite nella gestione dei 620 pazienti COVID-19 che negli ultimi 20 giorni è passata da 8 a 30 posti letto creati in terapia intensiva. Finora sono 2.286 casi positivi in tutta la provincia. Arriveranno invece sabato da Cuba 53 professionisti, medici e infermieri che hanno avuto a che fare con l'emergenza ebola a supporto dei colleghi dell'ospedale di Crema. Mentre a Bergamo, la provincia lombarda con più decessi, 300 in una settimana, 4.645 casi accertati dall'inizio dell'epidemia, l'Associazione Nazionale Alpina è pronta ad allestire il proprio ospedale da campo all'interno della fiera. La regione ha dato il via libera dopo la conferma dell'arrivo di medici e infermieri dalla Cina. Ieri a fianco del governatore Fontana la delegazione da Wuhan. Il presidente della Croce Rossa cinese ha evidenziato come le misure per bloccare il contagio non siano ancora abbastanza severe. Troppa gente in strada, sui mezzi pubblici e troppe poche persone indossano le mascherine. Ha rimproverato 4 milioni, quelle finalmente arrivate e distribuite dalla regione al personale sanitario. In arrivo anche nuovi letti per le terapie intensive, così come respiratori polmonari. Le strutture dove creare nuovi posti di letto si trovano, ma mancano ancora medici e infermieri specializzati. Continua a ripetere l'assessore Gallera. In Lombardia quasi 20.000 contagiati e la città metropolitana di Milano è sotto sorveglianza speciale per la crescita dei casi positivi. Tra le misure previste nel decreto del governo, lo sapete, ci sono anche delle misure relative alla scuola. Sembra ormai certo che le scuole resteranno chiuse non più fino al 3 aprile, ma quasi certamente fino a dopo Pasqua. Naturalmente è altrettanto certo a questo punto che possa allungarsi anche il periodo della cosiddetta quarantena. Una conferma arrivata dalle parole del Premier Conte dice quando il contagio comincerà a decrescere, questo la volta che avremo superato il cosiddetto picco, non si potrà tornare subito alla vita di prima. Come dire, dovrà essere necessariamente prolungato questo periodo. Vediamo. Si fa sempre più probabile la proroga dalle misure per contenere l'ondata del coronavirus, misure che in alcuni casi potrebbero essere anche inasprite. La decisione potrebbe arrivare già nelle prossime ore, anche sulla scorta di richieste sempre più pressanti di alcune regioni, tra cui la Lombardia. Il governo da ieri mattina sta infatti studiando la nuova stretta. È certo comunque che le scuole resteranno chiuse fino a dopo Pasqua, e non più solo fino al 3 aprile. Che il periodo di quarantena generalizzato per tutti gli italiani sarà più lungo, lo conferma il Premier che dice Decisione inevitabile. Quando si raggiungerà il picco e il contagio comincerà a decrescere, non si potrà tornare subito alla vita di prima. Se non saranno rispettati i divieti, dovremo agire. Ma il governatore della Lombardia, Fontana, vista le numerose violazioni dei divieti sul suo territorio, pensa che non ci sia più tempo. E così, nella serata di ieri, parla di nuovo con il Premier, cui chiede massiccio utilizzo dell'esercito come presidio, insieme alle forze dell'ordine, per garantire il ferrio rispetto delle regole vigenti, partendo dalle corsette, dalle passeggiate in libertà, chiusura degli studi professionali e degli studi pubblici, salvo per le attività indifferibili, fermo dei cantieri e ancora un'ulteriore limitazione delle attività commerciali. Il Presidente del Friule Venezia Giulia, Federica, Regione a Statuto Speciale, inoltre ha già firmato una nuova ordinanza che vieta da oggi di uscire per passeggiato attività sportive all'aperto. Impone ai sindaci la chiusura di tutti i luoghi di aggregazione pubblici o aperti al pubblico e la chiusura, nella giornata di domenica, di tutti gli esercizi commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie e le edicole. Sarà il Governo a breve a decidere se estendere queste misure anche ad altre regioni, ad iniziare dalla Lombardia. Per quanto riguarda i controlli in strada, il Ministro della Difesa, Guerini, ha già dato il via libera all'utilizzo dell'esercito per aiutare le forze dell'ordine, da oggi soldati anche in Sicilia. Il Papa Francesco, poco fa, celebrando la Messa a Santa Marta, ha voluto invitare tutti quanti alla preghiera per i medici e per le autorità. Ha detto, sono le colonne che ci difendono dal coronavirus. Ha invitato a pregare per i medici. Così, Papa Bergoglio, ha detto, preghiamo per medici e autorità, spesso incomprese. E un appello è arrivato nelle ultime ore anche dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, perché le forze politiche collaborino nel segno dell'unità nazionale e così per fronteggiare al meglio l'emergenza. Il Capo dello Stato ha telefonato ai leader politici delle forze e anche di opposizione chiedendo loro capacità di ascolto reciproca. Vediamo. Il Paese ci guarda. Necessario restare uniti. Sergio Mattarella si rivolge via telefono ai leader di maggioranza e opposizione. Un intervento risoluto, provocato dalla ripresa delle scherbaglie politiche e annessa, fine della tregua, dopo il varro del decreto Cura Italia, i 25 miliardi di misure economiche. Tutti i sacrifici chiesti al Paese non possono avere come contraltare l'immagine di una politica che continua a dividersi la linea del colle. È necessario che in una fase così delicata il dialogo e l'ascolto reciproco accompagnino le decisioni. Messaggio rivolto a tutti. Un invito a collaborare alle opposizioni che lamentano di non essere state ascoltate nella stesura dei 127 articoli necessari a far ripartire il Paese e chiedono più attenzione alle partite IVA, ma anche lo stop allo svuotacarceri, ma anche alla maggioranza a condividere, accantonando il fastidio dettato dalla minaccia del centrodestra di non votare il testo. Del resto, sulle misure appena varate, c'è una manutenzione continua dettata dalla necessità di trovare le modalità migliori per la loro realizzazione, tra proposte e polemiche. Confronto che dovrebbe trasferirsi in Parlamento, proprio la funzionalità delle Camere, è stata la miccia che ha riacceso le braci dello scontro. L'idea di un Parlamento a lavoro a ranghi ridotti e testi che procedono blindati dalla fiducia ha messo in allarme le opposizioni, che proprio alle Camere avrebbero voluto modificare il testo. Da qui il no della Lega, nelle capigruppo dei due rami del Parlamento, a lavorare a ranghi ridotti, magari insediato una commissione speciale. Abbiamo visto qual è la situazione in Lombardia. Adesso andiamo a vedere qual è la situazione nel centro e nel sud del paese, dove ovviamente c'è massima allerta. Sindaci e alcuni amministratori locali hanno chiesto l'intervento dei soldati, dell'esercito, proprio per vigilare del rispetto delle norme previste. Vediamo. Arginare il contagio per evitare il collasso della sanità al sud. I governatori si muovono e blindano i comuni anche se i numeri dei contagi non sono certo quelli del nord. Ma è l'aumento esponenziale a preoccupare. Così il presidente della regione Abruzzo, Marsilio, ha messo sotto chiave blindato sei comuni della zona, a cavallo tra le province di Pescara e Teramo. Partono proprio tutto il pattugliamento dalla nostra zona e tutte le strade verranno bloccate. Quindi, come già da ordinanza del governatore Marsilio, questa zona è stata denominata zona rossa. In Abruzzo sono 385 positivi al Covid-19, di cui il 64% a Pescara. L'ospedale rischia il collasso con 170 pazienti affetti da Covid-19. La direzione ha chiesto lo stop temporaneo dei ricoveri. Aumentano i contagi e partono le inchieste della magistratura, come quella all'ospedale di Sassari, dove c'è stato il più alto numero di positivi dell'isola. Indagano i magistrati anche nelle Marche per omicidio colposo plurimaggravato dopo i 36 casi di contagio e due decessi su 41 ospiti e due operatrici nella casa di riposo di Cingoli. Per contenere il virus e fare controlli, Campania e Sicilia hanno chiesto ed ottenuto l'invio dell'esercito che da oggi pattuglierà le strade. Ci stiamo preparando al peggio con l'escalation della pandemia prevista per fine marzo. Abbiamo circa 400 posti in terapia intensiva, ne stiamo allestendo altre 200, spiega il governatore siciliano Musumeci. Aumentano i controlli anche sullo stretto di Messina. Il Consiglio resta sempre lo stesso. Restate a casa, non è una preghiera soltanto, è un ordine. Obedite! E l'emergenza a conseguenze anche sull'economia. Ieri però, dopo l'annuncio della BCE che investirà 750 miliardi, le borse hanno guardato con ottimismo, Wall Street ha chiuso in rialzo, positive le borse asiatiche. In Europa Milano è stata la migliore ed è calato anche lo spread. Vediamo. Per mali estremi, rimedi estremi, Christine Lagarde spiega in un intervento sul quotidiano La Repubblica, mezzi e obiettivi che la Banca Centrale Europea userà e si prefigge per combattere quella che appare forse come la crisi peggiore che abbia affrontato nella sua storia. La mossa decisa due notti fa a aumentare il cosiddetto quantitative easing per arrivare a una potenza di fuoco di 750 miliardi che si aggiungono agli interventi già in atto segnala la volontà di difendere ad ogni costo l'euro e tenendo l'occhio assolutamente aperto su tutte quelle che saranno le evoluzioni future al momento assolutamente imprevedibili. Sì perché questo nuovo programma sottolinea la Lagarda ha una caratteristica preziosa in momenti come questi è pensato come estremamente flessibile. Gli acquisti di bond governativi e di imprese infatti potranno essere dosati e indirizzati momento per momento in base alla situazione dei paesi più colpiti. Le borse europee ieri hanno mostrato di aver fiducia in questa mossa tornando tutte in scenario positivo dopo gli shock dei giorni precedenti e lo spread italiano è tornato su livelli di tranquillità. Giuseppe Conte è convinto però che l'Europa possa fare di più e questa volta a livello politico in un'intervista al Financial Times il presidente del Consiglio chiede ai partner dell'Unione di adottare altre misure mettendo in campo anche quel meccanismo europeo di stabilità tanto discusso ma dotato di una potenza di fuoco di 500 miliardi di euro potenza che però in genere se invocata andrebbe pagata cara perché gli interventi del fondo sono legati a una serie di condizioni che il paese ricevente deve rispettare con rigore insomma una sorta di commissariamento che però Conte vuole evitare e intanto oggi in un certo senso a Bruxelles un giorno storico la Commissione europea infatti farà scattare la cosiddetta General Escape Close la clausola che disattiva in circostanze eccezionali il patto di stabilità con la regola di mantenere il deficit al 3% il coronavirus ha travolto anche le ultime resistenze nel mondo oltre 10.000 persone hanno perso la vita a causa del Covid-19 lo sapete dopo l'Italia è la Spagna il paese con maggior numero di contagi e di vittime ma l'epidemia dilaga anche in Francia e Germania vediamo il sorpasso è arrivato inesorabile ieri il numero complessivo di contagi da coronavirus in Europa ormai oltre 100.000 sugli oltre 230.000 complessivi ha superato quello dell'Asia positivi anche il capo negoziatore della Brexit Michel Barnier e il principe Alberto di Monaco il focolaio più virulento Italia esclusa è quello spagnolo con oltre 17.000 contagi qui nella sola giornata di ieri i decessi hanno conosciuto un incremento del 30% il totale ora è di 833 a Madrid per sopperire al sovraccarico degli ospedali è stato requisito il Grand Hotel Cologne e lo stesso sta per avvenire con il Marriott ma l'epidemia dilaga anche in Francia e in Germania oltre Alpe superati gli 11.000 casi con 372 morti ancora più contagi oltre 15.000 fa registrare la Germania sebbene con un numero di decessi contenutissimo 44 complice anche il gran numero di posti disponibili in terapia intensiva ciò nonostante la situazione rimane preoccupante come dimostra anche il fatto che per mantenere l'ordine pubblico sono stati richiamati 75.000 riservisti dell'esercito ma è tutto il mondo con l'eccezione della Cina paese da dove tutto è cominciato e che ora ha le prese soprattutto con il problema dei contagi di ritorno a dover arginare il dilagare della pandemia in Argentina è stato ordinato l'isolamento sociale preventivo obbligatorio in sostanza una quarantena a livello nazionale che si concluderà il 31 marzo alle 24 negli Stati Uniti si impegna il numero di contagiati nelle ultime 24 ore i casi sono raddoppiati portando il numero di positivi ad oltre 14.000 le vittime sono in totale 193 in California scatta il lockdown per 40 milioni di abitanti il presidente Trump è tornato ad attaccare Pechino il mondo pagherà a caro prezzo la lentezza con la quale ha condiviso le informazioni ha affermato se lasciamo che il virus si diffonda come un incendio ucciderà milioni di persone ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres volgendo il suo sguardo preoccupato soprattutto ai paesi più vulnerabili e prospettando sul piano economico una recessione globale di dimensioni record e allora anche lo sport non è immuno alcuni non è immune scusate alcuni calciatori hanno deciso di rientrare nei loro paesi di origine mentre resta ancora sospeso il destino delle olimpiadi che sono calendarizzate per quest'estate la fuga dei campioni la pandemia spinge molti big a tornare in patria in Italia nonostante la resistenza di alcuni club oggi la Lega Calcio dovrebbe disporre la ripresa degli allenamenti per il 4 aprile ma già da qualche ora diversi giocatori hanno fatto i bagagli lo juventino Higuain è rientrato in Argentina con un volo privato per assistere la mamma gravemente malata e da Torino sono partiti per motivi familiari anche Pjanic e Kedira nessun caso con il permesso della società hanno abbandonato l'isolamento scattato dopo il contagio di Rugani dimostrando la loro negatività al covid-19 calciatori via pure dalla Francia Neymar e Tiago Silva stelle del Paris Saint Germain hanno trovato riparo in Brasile mentre il compagno di squadra Cavani ha fatto ritorno in Uruguay a Belgrado Jovic del Real Madrid è stato invece denunciato per violazione della quarantena secondo la stampa locale l'attaccante serbo avrebbe lasciato la Spagna per festeggiare il compleanno della fidanzata ma c'è anche chi resta diligentemente tra le mura domestiche tenendosi in forma e chi come l'interista Lukaku manifesta via social lo stress dell'isolamento mi manca mio figlio una volta sono andato fuori di testa la confessione del nerazzurro nel giorno in cui la Premier League ha allungato il suo stop almeno fino al 30 aprile è stato cancellato il Gran Premio di Monaco di Formula 1 una decisione clamorosa e la prima volta dal 1954 il grande punto interrogativo dello sport mondiale restano però i giochi a 5 cerchi della prossima estate nel silenzio e a porte chiuse la torcia olimpica è passata di mano da Atene a Tokyo ma adesso anche il CIO inizia a vacillare è presto per prendere decisioni definitive ha dichiarato Samaranch Junior braccio destro del presidente Buck e allora prima di salutarci vi ricordo la nostra sottoscrizione la raccolta a fondi promossa dalla SET il Corriere della Serie alla Gazzetta dello Sport destinata all'acquisto di attrezzature mediche di prima necessità lo vedete in sovraimpressione il codice IBAN per le donazioni mi raccomando fatelo allora sono le 7.49 minuti io mi fermo qui con il telegiornale qualche istante di pubblicità poi torna Paolo sotto corona con le previsioni del tempo e poi a seguire c'è Gaia Tortora che conduce il dibattito di Omnibus a tutti voi una buona giornata grazie per essere stati con noi ci vediamo domani grazie a tutti